Adriano, hai i soldi pronti per quando si perde la scommessa? Anche se noi italiani abbiamo avuto i nostri scandali, penso che possiamo ancora vincere. Non fattemi parlare di quegli scandali, non si dovrete nemmeno essere partecipati a questi tornei. Imbriogodi! Sono sicuro che si è tentato di pagare l'arbitro anche qui. Amico, amico, chi era solo Juventus? Bella mità della squadra è da Juventus. Parla di Gio chi si vuole, chi vuole che conta che siamo in finale ora? Smettere di dare a me i mali di testa. Portami una birra. No, 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 hai i tuppieri e vai a prendere la persona. Continuare a parlare in che modo? Il dinero non è l'unica cosa che ti perde stasera. Continuo a parlare, mi rinviare. Io sono morto. Oh no! Oh no! Oh no! Sì, sì! Non ci può! Oh no! Mi riesce a divabinare una carriera con una testata! Zizou! Perché? Perché Zizou? Perché? Si materazzi! Tutti i pazzi per materazzi! Sulla strada Zilar! Sulla strada! Non succede niente, vinceremo senza Zilar Nei tuoi sogni Voi italiani sono i brutti Questo è il calcio, non stiamo giocando il curling Almeno nel curling non si può pagare Gli arbitri Molto diverente E si dovrebbe essere un convinto Non mi piacciono i tiri di rigore E finiti sopra i trevi anche solidarmi I soldi buffon è il migliore del mondo Che incubo! No si danno i migliori tiratori di tiri di rigore Che pena! Fortana, fortuna dura Lo conosci? Andiamo ragazzi! Eeeeeee! Andiamo ragazzi! Tre seghietta ha colpito il palo Tre seghietta ha colpito il palo Buffon era battuto Era battuto Non è possibile Non è possibile Trusso la messa Trusso la messa Trusso la messa Trusso la messa Campione del mondo 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 Apparciamoci forte Fai!